Oggi vi facciamo vedere come si installa il modulo dimmer o semplicemente modulo interruttore con la possibilità di regolare la dimmerazione della luce con il pulsante push è molto importante l'utilizzo del pulsante push e non dell'interruttore cosa serve per installare questo un pulsante push immaginiamo che qui abbiamo un illuminazione già preinstallato o da installare quindi facciamo finta che sia un faretto a 220 ovviamente e ovviamente la lampadina deve essere una lampadina dimmerabile faretto lampadina o anche alimentatore un segmento di cavo marrone uno blu partiamo dal presupposto che l'installazione sarà fatto da un impianto già esistente o nuovo che si andrà a creare dove nella quale dal muro quindi dalla vostra scala 503 abbiamo due cavi la fase e la neutra come si installa allora vi ho fatto uno schemino un po riepirogativo che potrebbe sfacilitarvi nella comprensione questo è il lo schema di installazione allora abbiamo led dimmerabile pulsante 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 come del pulsante due cavetti e questo andremo a inserire la fase sulla l in comune al push poi andremo a inserire la neutra nel n del modulo in comune alla l del led poi il marrone che la fase del led lo andremo a inserire nella l meno e il pulsante marrone il pulsante col cavo blu in uscita sulla s per la dimmerazione fase della del che esce dalla vostra scatola dell'impianto con il cavo marrone che corrisponde il nome alla fase in comune lo andremo a inserire sulla l la neutra con la neutra del lampadino del faretto led o dell'impianto che già esiste sulla n allora a questo punto il led il cavo marrone del led che corrisponde alla fase del led lo andiamo a a inserire su l e meno e la neutra del pulsante sulla s ecco qua abbiamo il nostro dimmer installato push led e presa andiamo a vedere come funziona la lampadina si è accesa si sta incrementando allora premi una volta si spegne premi la seconda volta si accende tieni premuto cara all'intensità luminosa non so se vedete accendi aumenta l'intensità luminosa abbassa l'intensità luminosa come vedete la dimmerazione è molto soft una pressione leggera veloce per accendere o spegnere tenere premuto per dimmerare aumentare o abbassare la luminosità da considerare che devi per forza utilizzare un dispositivo a led dimmerabile che con dispositivi non a led dimmerabile non funziona e va utilizzato da un pulsante push